Oggi voglio spiegarti il sistema Leitner, ma soprattutto come utilizzarlo per ricordare bene ogni capitolo dei libri e delle informazioni, in generale del materiale, che devi studiare per preparare i tuoi esami universitari. Prima di parlare di questo, però, ti ricordo che attraverso il link in descrizione puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Ti basta inserire il tuo nome e l'email in cui puoi ricevere tutti i contenuti e parliamo di spiegazioni pratiche, teoriche, anche di contenuti scaricabili e tanto altro. Per quello che riguarda invece il video di oggi, vediamo la sigla e poi parliamo di come applicare nel modo corretto il sistema Leitner. Vediamo insieme quindi come utilizzare il sistema Leitner per riuscire a ricordare tutti i capitoli che dobbiamo preparare per superare l'esame. Il sistema Leitner funziona in questo modo. Dobbiamo dividere l'apprendimento in tre diversi livelli. Un livello basso di apprendimento che corrisponde alla ricordare molte poche informazioni o quasi nulla del capitolo che stiamo studiando. Oppure ricordiamo un po' di informazioni ma ovviamente non a livello sufficiente per superare l'esame, questo è il livello medio di apprendimento. E infine il livello alto di apprendimento è quello che corrisponde alla nostra capacità di ricordare tutto e anche con dettagli e sfumature. In sostanza quando arriviamo al terzo livello, al livello alto, per quello che abbiamo studiato siamo pronti ad andare all'esame preparati. Quindi questi tre livelli come li applichiamo per riuscire a ricordare tutto quello che c'è nei vari capitoli che dobbiamo studiare? Prendiamo un capitolo alla volta. Ipotizziamo quindi di dover studiare questo capitolo 1. Devi porti questa domanda. Come ricordo questo capitolo? Cioè come riesco a ricordare le informazioni contenute in questo capitolo? Il più delle volte quando iniziamo a studiare è normalissimo, è naturale, ricordare pochissime informazioni. Appunto perché ancora dobbiamo approfondire con lo studio. Quindi andiamo a posizionare il capitolo 1, per questo esempio, nel livello basso di apprendimento. Quindi ricordiamo pochissime informazioni o quasi nulla. Qual è di conseguenza il nostro obiettivo? Continuare a studiare per far passare il capitolo dal primo livello al secondo livello. Quindi da un livello basso di apprendimento a un livello medio. E poi di conseguenza dal livello medio passeremo al livello alto e quindi saremo pronti per poi andare all'esame per quello che riguarda almeno le informazioni di questo capitolo. Ti voglio fare notare che c'è un doppio passaggio. È impossibile passare dal non sapere nulla a improvvisamente sapere tutto. Dobbiamo fare degli step. Passiamo dal sapere pochissimo al sapere un bel po' di informazioni ma non abbastanza e poi passare al livello alto. Quindi se ci troviamo nella condizione in cui ancora il capitolo è a livello basso, quindi sappiamo ancora troppe poche informazioni, la soluzione è una. Dobbiamo continuare a studiare. Questo come? Ovviamente con le tecniche che preferisci ce ne sono tantissime, puoi utilizzare il metodo che usi normalmente tu oppure se hai bisogno di qualche tecnica ne trovi a centinaia nel canale. In ogni caso puoi anche chiedere nella sezione dei commenti e ti posso aiutare io in base alle tue necessità specifiche. In ogni caso continui a studiare questo capitolo 1, dedichi il tempo necessario, dopodiché torni a porre a te stesso, a te stessa la domanda che abbiamo fatto prima, che prima ci ha fatto classificare questo capitolo a livello basso. Come ricordo le informazioni contenute? Ovviamente, dato che ho appena studiato le informazioni, inizio a ricordare più cose rispetto a prima e quindi avviene il passaggio dal livello di apprendimento basso al livello di apprendimento medio. Ecco che, come ti ho detto prima, non abbiamo fatto un salto, siamo passati soltanto dal basso al medio. A questo punto dobbiamo fare esattamente la stessa cosa di prima, aggiungiamo a ciò che abbiamo studiato altre informazioni, cioè continuiamo a studiare con tutte le tecniche e le strategie che conosciamo e continuiamo a insistere finché ci dobbiamo porre nuovamente la stessa domanda, cioè come ricordo le informazioni presenti in questo capitolo. Continuando con lo studio, ovviamente ho acquisito tante altre informazioni e se ho studiato davvero bene posso fare anche l'ultimo passaggio, cioè passare dal livello di apprendimento medio al livello di apprendimento alto. E quindi questo capitolo, il capitolo 1, è pronto per poter andare all'esame, quindi possiamo portare l'esame. Ovviamente non è sufficiente per superare tutto, quindi è necessario ripetere questo processo anche con tutti gli altri capitoli, in modo tale che il nostro risultato finale dovrà somigliare a qualcosa di simile. Tutti i capitoli che abbiamo studiato sono passati dal livello basso, medio, fino a alto, oppure se già conosciamo qualche informazione dal livello medio al livello alto. E quando tutti sono presenti nell'ultimo livello vuol dire che sappiamo tutto ciò che serve per superare l'esame, non solo per un capitolo ma per tutti i capitoli che dovevamo studiare. Quindi questo era quello che ti volevo proporre nel video di oggi, fammi sapere se hai dubbi, domande, non farti nessun problema. Ti ricordo che in descrizione c'è il link per richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari e quindi ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani.